Un tema caldo in queste settimane è quello relativo alla vertenza di BNL. Perché sta diventando un problema e che cosa comporta anche il fenomeno della possibile esternalizzazione? Oltre che essere un fenomeno importante per le persone coinvolte all'esternalizzazione e quindi per le famiglie coinvolte dei 900 lavoratori che saranno esternalizzati, il problema è la precarizzazione del mestiere di creditizio che è una precarizzazione che investe tutta la società perché comunque sarebbe da non precarizzare assolutamente questo settore. Sappiamo che nel territorio di Roma c'è un problema legato al settore del credito soprattutto per le imprese e le famiglie. Quali sono le possibili soluzioni da adottare? Negli ultimi dieci anni abbiamo avuto da una terziarizzazione dell'economia una finanziarizzazione dell'economia sul nostro territorio di Roma. Questo sicuramente ha comportato quindi la generazione di poco valore aggiunto per quanto riguarda una crescita del PIL che possa essere in qualche modo strutturata a favore sia delle imprese che delle famiglie. Le soluzioni sicuramente possono essere riassunte in due punti. La prima è quella di poter riavere delle direzioni territoriali con forti deleghe che oggi sono venute a mancare dopo l'accentramento in nord Italia delle direzioni generali e delle maggiori banche in modo da poter avere delle deleghe forti sul territorio che possono consentire di essere più vicini a imprese e famiglie. Il secondo punto sarebbe quello invece di avere una progettazione più strutturale da parte di tutte le energie e le forze presenti nella nostra città quindi ad esempio tramite l'istituzione di un osservatorio economico che possa comprendere appunto le istituzioni, le banche, le associazioni delle imprese e i sindacati, i cittadini stessi tramite le loro associazioni e le università in modo da fare una sinergia e anche una progettazione prospettica per la nostra città e per la nostra regione.